Ciao a tutte e tutti, mi chiamo Matteo Nanni e sono candidato per la provincia di Bologna alle elezioni regionali del 26 gennaio. Sono di Imola, ho 29 anni. Questa sera rispondo alla domanda che cosa farà Potere al Popolo per i giovani in Emilia-Romagna. Risposta, Potere al Popolo non ha la ricetta magica con cui aiutare i giovani a risolvere i propri problemi. Noi non crediamo che i giovani vadano aiutati e pensiamo anche che i giovani si autodeterminano e che debbano autodeterminarsi. Il primo strumento per l'autodeterminazione è il salario, è la retribuzione del lavoro che al giorno d'oggi sembra quasi diventato un miracolo, qualcosa per cui lodare e glorificare le imprese che sacrificano le proprie risorse economiche per investire sulla formazione dei giovani. Ed è una cosa che noi riteniamo inaccettabile, che sia diventata praticamente la norma non retribuire il lavoro di ragazzi e ragatte, specialmente pensiamo al caso dell'alternanza scuola-lavoro che non sembra andare nella direzione dell'autodeterminazione, come certi vogliono far credere, ma nella direzione dell'autosubordinazione a un sistema di sfruttamento che è stato portato avanti per decenni ormai da governi di qualsiasi tipo. Per cui invitiamo tutti e tutti a unirsi alle lotte che facciamo, che continueranno anche dopo, e specialmente dopo le elezioni del 26 gennaio. Ciao!